Allora, il giorno di vendegna. Guardando in internet avevo visto la pubblicità di Davide Vignato e proponeva questa adozione. Allora, l'idea mi è venuta durante la pandemia. Abbiamo cominciato durante il 2020 a fare questa adozione e un po' anche per far conoscere il territorio di Capellara. Quando adotti un filiare è un'esperienza, è qualcosa a contatto con la natura. Ti riappercitivo il mondo stando in natura. Ludiche, didattiche e conviviali. Questo è un po', la mia è sempre stata la mia idea del fare vino, dell'unione del vino, della compagnia.